Ciao a tutti amici, benvenuti a un nuovo video Oggi sono qui a registrare la seconda parte di Pennywise Hit, in clown, ballerino Minecraft, horror, mappa Spero che vi piace, lasciate like e iscrivetevi al mio canale Cominciamo Ok, eravamo alla torre, vero? Sì Va bene Vediamo un po' dove eravamo rimasti Ok, qui penso ora Bisogna cercare di aprire questa cosa Ma devo cercare una cosa per aprire quello? Se no non ci riesco Qui avete visto la prima parte e c'è la Georgie Io non so più dove andare Perché forse mi sono persa Bisogna andare dalla torre Ho bisogno di cercare una cosettina Ma questo labirinto è così grande che è da farci da perdersi Tranquillo ragazzi Farò tutte le parti di Hit Se riesco a trovarle tutte E di a sconfiggerlo Almeno così possiamo festeggiare tutti insieme Ma il problema È che non riesco a trovare Come rompere quella torre lì Questa guardate ragazzi Questa Non riesco a togliere Toglierlo Dove potrebbe essere Dove Ma dove posso Dove potrebbe essere Scusa macchina Hai visto Un piccone Un piccone Un'ascia Per rompere Quella cosa Dei mostri In generazione Dei mostri L'hai vista? No? Beh Sei mio nemico Allora Un fan Non so più dove sta Ma dove potrebbe essere Dove 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 potrebbe essere Dove Dove Ragazzi Mi sto veramente Ma veramente Veramente Impazzendo Se qualcuno Se qualcuno di voi Ha fatto Questo Questi video Mi può dare Suggerimenti Per favore Mi sto Veramente Impazzendo Non so più Dove sto andando Ma noi non ci Fermeremo Così facilmente Con Pennywines In clown Ballerino Ma allora Dove Dove posso andare? Dove? 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 Muffa Ma cosa devo fare? Non so più Non so più cosa devo fare Abbiamo fatto Il primo La prima parte La seconda parte La terza parte È ancora chiusa Dovevo ancora Sbloccarla La terza parte La terza parte Ragazzi Quasi quasi Vorrei Mettermi In creativa Per spaccare Queste cose E mettermi In sopravvivenza Ma così Si chiamerebbe Parare Non trovate? Sì Mi sta venendo Anche fame Guardate qui Vi pare se minecraft Forse Nella vita reale A me Sarebbe una cosa bellissima Se minecraft Sarebbe una cosa reale Sarebbe una cosa reale Cosa devo fare? Non so capito niente Non so capito niente Ragazzi Se Se avete giocato A questa mappa Mi potete dire Dei suggerimenti Come continuare Come andare avanti Che io mi sto Perdendo Ma dov'è? Ragazzi Meglio continuare la prossima volta Forse è meglio Stasera alle 10 Che Forse magari Capisco meglio Come si gioca Pennywise Qui Va bene Ci vediamo Ciao 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 Grazie a tutti.